Nei giorni scorsi l'assessore allo sport del comune di Nago Torbole, Fabio Malagoli, ha inviato una nota relativa al campetto sintetico di Torbole, situato in località Sant'Andrea, vicino alla chiesa, gestito fino a qualche mese fa da Alessandro Tonelli, presidente dell'associazione Zobia United. Non sussistono le condizioni per la prosecuzione della concessione e gestione dell'impianto sportivo, ha commentato l'assessore, a causa di gravi inadempienze alla convenzione stipulata e per un utilizzo improprio degli spazi limitrofi. Con la convenzione, datata 11 maggio 2016, l'associazione sportiva si impegnava a gestire la struttura di proprietà della parrocchia in concessione al comune per un periodo di due anni, il primo dei quali in prova. Il campetto è nato come luogo di ritrovo e non come campo di calcio, pertanto non è dotato dei servizi accessori obbligatori per un impianto sportivo, ha precisato l'assessore Malagoli, e rimane a servizio dei ragazzini che possono utilizzarlo in completa libertà. Recentemente Alessandro Tonelli aveva lanciato un appello all'amministrazione chiedendo il rifacimento della struttura. Abbiamo sostituito le porte, ora stiamo esaminando gli altri interventi di cui necessita l'immobile, tra i quali il rifacimento del manto sintetico, ha concluso l'assessore. Valuteremo di riconsiderare opportunamente anche le modalità di gestione della struttura e di affidare un nuovo incarico.